Quattro anni fa la maggioranza assoluta dei cittadini italiani ha detto in modo molto preciso, in modo molto forte, che l'acqua e il servizio idrico dovrebbero rimanere pubblici. Ebbene, oggi vediamo quattro anni a distanza che riprendono invece i processi di privatizzazione del servizio idrico. Un bene primario, basilare, imprescindibile come l'acqua, deve essere sottratto alla logica del profitto. Un concetto che può apparire quasi scontato e che invece continua ad essere messo in pericolo, come denuncia la CGL, che al tema ha dedicato una giornata nazionale. È un diritto per avere più posti di lavoro anche, per esempio, è un diritto per la comunità, quindi è un diritto ad avere più welfare, è un diritto per i cittadini ad avere tariffe ovviamente di eguaglianza e quindi è una cosa che è imprescindibile del fatto di avere altri diritti che a volte sembrano più importanti di questo. CGL, ma non solo, a Bassano il fronte è stato allargato, oltre che ai quartieri della città, ai comuni del circondario, alle associazioni, persino alle istituzioni religiose, oltre che naturalmente ad Etra. L'acqua è un bene di tutti, è il bene di tutti. Il prezzo, il costo e tutto quanto deve essere gestito dalle amministrazioni, diciamo così, comunali, ma soprattutto deve essere gestito dal consiglio d'ambito e da chi cura le tariffe, da chi sceglie le tariffe, quindi l'organismo è l'ente per posto.